Marco Caminati ed Enrico Rossi dopo la vostra seconda partita agli europei di beach volley e volevamo chiedervi una vostra impressione per quanto riguarda questi europei e la partita appena disputata. Sì, allora innanzitutto ci teniamo a dire che per noi è un onore comunque essere qua rientrare nelle migliori 32 coppie d'Europa, poi anche il clima, qui l'ambiente, l'organizzazione è fantastico e tutto questo comunque grazie a noi e soprattutto anche al nostro staff, a dirigenza che ci segue, ci teniamo comunque a sottolinearlo. E niente, adesso l'avventura non è partita al meglio, l'altro giorno con il gioco d'apertura un po' di tensione, però siamo contenti adesso di essersi rimessi in carreggiata, speriamo di continuare così. Dovevo dire anch'io? Mi ero ambientato. No, niente, siamo riusciti a sbloccarci, dopo le ultime due settimane che non riuscivamo a giocare al meglio, siamo contenti per esserci sbloccati e adesso dobbiamo lavorare ancora molto per migliorare alcune cose, ma per questa cosa qui ci penseranno i coach, Gianluca Sedea e Marco Palatelli. D'accordo, grazie mille, buona fortuna e buon proseguimento. Grazie, ciao. Ciao. Grazie. 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 Grazie.